Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini e Berlusconi si incontrano nuovamente, ancora senza invitare Meloni. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Qualcuno di voi può dire, ma perché devono, scusa, perché devono invitare Giorgia Meloni? Allora, è un incontro politico, un incontro politico. Matteo Salvini, voi come sapete, dal giorno prima delle elezioni di Mattarella, aveva mandato un messaggio a Giorgia Meloni, sto salendo da te in ufficio, poi Salvini riceve una chiamata dalla sinistra e corre da loro per fare leggere Mattarella. Da lì in poi non ha avuto più il coraggio di farsi sentire con Giorgia Meloni ed è completamente sparito. Completamente sparito. Da lì in poi ha incontrato più volte Berlusconi. Più volte hanno parlato di fondersi, sgambetti alla Meloni. Comportamento veramente inqualificabile. Siamo a ridosso delle elezioni amministrative. Elezioni importanti dove Salvini ancora tenta il colpaccio. Secondo lui, cerca di fondere il suo partito con quello di Berlusconi. Cancellare il nome Lega. Il nome Lega non piace più, non funziona più. Al centro-sud non piace il nome Lega e voi sapete perfettamente il perché. Non è un mistero del perché la Lega al centro-sud non la votano. Già è tanto che Salvini con il voto di opinione era arrivato addirittura al 35%, ma era un voto di opinione, un'illusione collettiva. Adesso si presentano in Sicilia senza aver consultato Giorgia Meloni, senza avergli telefonato, senza averla invitata, senza aver fatto una riunione nonostante loro vanno al Crazy Pizza a far rotiare le pizze il venerdì sera, vanno a vedere le partite del Milan, si invitano i finti matrimoni, si lodano come bravo Salmini, il miglior politico che c'è in Italia. Diceva Berlusconi, non c'è traccia di comunicazioni a Giorgia Meloni. I due sono convinti che Giorgia Meloni gli abbia fatto le scarpe rimanendo all'opposizione, non entrando nel governo cosiddetto dei migliori. Ma la Meloni è stata coerente, lei ha detto mai con PD e 5 Stelle, pertanto rimane mai. Anzi, gli ha detto rimanete anche voi fuori all'opposizione, rimanete fuori, così magari si va anche a votare. No. Naturalmente la perdita di voti della Lega non è cominciata 14 mesi fa con l'ingresso di Salvini nel governo dei migliori, è cominciata dal papete, dal giorno dopo di quel famoso papete dove Salvini ha fatto cadere il governo pensando di andare alle elezioni, da lì è cominciata la discesa della Lega, molto prima dell'inizio di questo governo, molto prima. Non si può dire che Salvini ha perso il 20% dell'elettorato dopo con il governo. Poi vi faccio un calcolo. Più di una volta vi ho detto che Salvini e la Lega hanno perso oltre 10 milioni di elettori. Oltre 10 milioni di elettori. Ho visto uno di voi ma te l'ho già detto, non sono mica oltre 10 milioni, cosa scrivi? Insomma, prima di scrivere, prima di parlare, attaccate la spina, bisogna essere connessi. Prima di parlare informatevi, informatevi quanti sono gli elettori in Italia. Circa 46 milioni, 46 milioni. 46 milioni sono il 100% degli elettori. Se un partito ha il 35%, come era arrivato Salvini prima del papete, quant'è il 35% di 46 milioni? Fate 46 milioni per 0,35 e trovate che sono 16 milioni e 100 mila. 16 milioni e 100 mila gli elettori della Lega. Qualche sondaggio lo dava anche al 40%. Io mi ricordo in quei momenti c'era qualcuno che dava la Lega anche al 40%. Quant'è il 40% di 46 milioni? 18 milioni? 18 milioni? 400. Aspetta che me lo scrivo, se no non riesco a fare il calcolo a mente. 18 milioni? 400. Poteva aver raggiunto Salvini in quei momenti. In alcuni sondaggi gli davano il 40%, il 40% di 46 milioni e 18 milioni i 400 elettori. Se adesso l'ultimo sondaggio dava la Lega al 15,1 e voi fate 46 milioni per 0,15 trovate che gli elettori attuali della Lega sono 6 milioni 900. 6 milioni 900, prima erano 18 milioni 400, trovate che c'è una differenza di 11 milioni e mezzo di elettori. Ecco, prima di commentare e dire che il professore non capisce niente, che la Lega mica ha perso 10 milioni, ne ha persi anche magari 11, 11 milioni e mezzo. Comunque, facciamo 10 milioni, dai. Giusto per rispondere, ogni tanto mi casca l'occhio su qualche messaggio, mi metto le mani nei capelli e dico con quale arroganza si va anche a dire che gli altri non capiscono niente quando la stessa persona che scrive non è capace di utilizzare neanche una calcolatrice o utilizzare Google, fare la domanda quanti sono gli elettori in Italia, prendi una calcolatrice, fai due calcoli e in 10 secondi vedi che la Lega ha perso oltre 10 milioni di elettori. Bene, stavamo parlando dell'incontro, si sono incontrati ancora Salvini e Berlusconi, si sono incontrati e visto che ci sono adesso le elezioni, dovevano invitare Giorgia Meloni e dire mettiamoci d'accordo per le elezioni in Sicilia. Cosa facciamo? Ma i due non hanno nessuna intenzione, questo è un vero e proprio smacco, questo è una sorta, come si fa, come in quelle compagnie dove isolano, un gruppo di amici isola uno, lo mette in disparte, come si chiama? Sul lavoro si chiama mobbing, no? Quando utilizzi un certo comportamento per provocare nell'altro un certo stato d'animo. questo modo di fare è emblematico. Questi si presentano da soli in Sicilia con un nuovo simbolo per nascondersi dentro, perché la Lega in Sicilia non la vota nessuno, quindi si va a nascondere dentro un simbolo prima gli italiani. Non hanno chiamato Giorgia Meloni, non l'hanno interpellata, si presentano da soli e Giorgia Meloni è costretta a presentarsi da sola. Questo è una chiara dichiarazione di guerra a Fratelli d'Italia da parte di questi due personaggi che sono presi dall'invidia più sfrenata, non ci sono altre soluzioni. Quindi continua questo comportamento che credo Giorgia Meloni ne debba prendere atto e mettere una parola fine e dire bene, con voi finita, basta, non c'è più nessuna possibilità. Certo sfuma il governo italiano perché per andare a governare questi tre dovevano essere uniti, ma due di loro, Salvini e Berlusconi, hanno fatto di tutto per distruggere il centrodestra. Preferiscono far vincere la sinistra che far governare la Meloni, preferiscono distruggere il centrodestra che far governare la Meloni. Nella loro mente inconsciamente dicono o governo io o non governa nessuno del centrodestra. Arrivederci a tutti e grazie.